Il Presidente dell'Ufficio elettorale per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale del prossimo, fissate per il prossimo 12 ottobre. L'Ufficio elettorale era tenuto a controllare le liste presentate i giorni 21 e 22 del mese di settembre, a controllare l'esattezza delle sottoscrizioni sia nel numero che nella forma. Sono state presentate due candidature alla carica di Presidente, rispettivamente i due candidati sono il signor Giovanni Romano, nato a Mercato San Severino, nonché sindaco del Comune di Mercato San Severino, e il signor Giuseppe Canfora, nato a Sarno, anche gli sindaco del Comune di Sarno. Le liste presentate invece sono state sette. La prima lista presentata è stata quella di Fratelli d'Italia, che è composta da 16 candidati alla carica di consigliere provinciale. Unione di Centro, 10 candidati, Forza Italia, 16 candidati, Provincia Moderata e Riformista, 11 candidati, Nuovo Centrodestra, 8 candidati, Sinistra per la Provincia, 8 candidati, Partito Democratico, 15 candidati. Nella giornata odierna sono stati fatti i sorteggi per segnare l'ordine sulle schede elettorali. A sinistra, nella scheda per la elezione del Presidente, troveremo Canfora, il candidato dottor Canfora, e a destra troveremo il candidato dottor Romano. Poi nell'ordine le liste, sulla scheda per la elezione del Consiglio provinciale, l'UDC, il Partito Democratico, il Nuovo Centrodestra, Sinistra per la Provincia, Forza Italia, Provincia Moderata e Riformista, Fratelli d'Italia. Bene, vi ringrazio per l'attenzione.